Ciao ragazzi, molto importante ragazzi, molto 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 importante ragazzi, non è programmato ragazzi, bomba 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 ragazzi, una notizia bomba ragazzi, una notizia bomba nel mondo Roma ragazzi, vi lascio qui lo scricio da qualche parte, ragazzi, ultimora esonerato di Francesco e si parla di un ritorno nella capitale di Claudio Ranieri ragazzi ebbene si potrebbe prendere il posto di lasciato di Francesco come allenatore della prima squadra della Roma e lo prenderà presumibilmente Claudio Ranieri ragazzi, incredibile, notizia bomba ragazzi, incredibile, incredibile, quindi ragazzi di Francesco è stato esonerato dal allenare la prima squadra della Roma, quindi non allena più la Roma ragazzi, Roma esonerato di Francesco e ragazzi, forse si parla di Claudio Ranieri come allenatore prossimo, quindi ragazzi, se vi è piaciuto il video, cliccate il mi piace, condividete e iscrivetevi e ricordatevi che questo colline è internazionale, ciao ragazzi